buonasera a tutte e tutti benvenute benvenuti all'ultimo incontro per questo semestre di letra anzi mi sono già sbagliato non è un incontro di letra e bensì il primo incontro frutto di una convenzione nata qualche tempo fa tra letra laboratorio di traduzione letteraria e la sit la società italiana di traduttologia di cui il collega amico qui a fianco a me antonio lavieri è stato il creatore ed è il presidente abbiamo firmato questa convenzione ufficiale proprio accademica tra le due entità che ha lo scopo appunto di dare luogo a un laboratorio di traduttologia vediamo di mettere come dire insieme differenti competenze tutte attorno alla traduzione e alla traduttologia perché lo spirito è proprio quello di non separare mai per usare termini molto semplici la pratica traduttoria dalla riflessione sulla traduzione quindi la traduttologia l'intento è quello di periodicizzare gli incontri quindi fare un incontro a trento in autunno inverno e un altro a palermo in primavera a trento sarà incentrato piuttosto sulla traduttologia mentre a palermo sulla traduzione ecco questo appunto il primo evento e ringrazio antonio e della sua collaborazione per aver potuto permettere questa realizzazione e ringrazio i nostri invitati e quindi l'incontro il primo incontro vede partecipanti intervenenti due illustri personaggi della traduzione franco nasi e chris randall allora io a questo punto passerei subito la parola a d'antonio per illustrare invece la la sita e poi cominciare presentando franco nasi primo relatore a te la parola grazie mille paolo dunque ringrazio certamente paolo tamassia senza di cui questa avventura e questa scommessa di una collaborazione tra il seminario di traduzione letteraria di trento è il la società italiana di trattologia non avrebbe potuto avere inizio dunque paolo ricordava bene come sia importante non separare la riflessione sulle pratiche traduttive da quella sul 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 tradurre come come esperienza no in questo senso c'è una definizione di traduttologia che io sposo sempre che ricordo sempre i miei studenti che quella di antoine di antoine berman il quale scriveva e diceva che la traduttologia è la riflessione della traduzione su se stessa a partire dalla sua natura di esperienza allora il laboratorio di traduttologia nato da questa convenzione tra la sit e il seminario di traduzione letteraria ha proprio lo scopo di riflettere su quelli che sono i processi meta riflessivi critici editoriali mossi dall'attività traduttiva nelle varie sfaccettature che si potranno in qualche modo studiare insieme e su cui potremo riflettere insieme in questi due appuntamenti annuali che si svolgeranno fra trento e palermo qualche parola sulla società italiana di traduttologia dunque la società che è la prima società che si occupa in italia di tipo accademico che si occupa di teoria della traduzione nasce a palermo con il supporto della city francais nel 2016 abbiamo fino ad ora svolto varie attività dopo una presentazione alla fondazione mondadori al laboratorio formentini avvenuta nel 2017 abbiamo avuto modo di partecipare e creare alcuni eventi importanti tra cui una summer school una summer school nel 2018 a palermo con la partecipazione di 30 studenti internazionali provenienti un po da tutto il mondo su temi non concernenti la formazione professionale dei traduttori ma una riflessione specifica sulla teoria e la storia della traduzione lo scopo della società lo dicevo oggi parlando a chris randall che qui accanto a me è anche quello in qualche modo di far riconoscere di agire per il riconoscimento della traduttologia come disciplina autonoma in seno ai saperi della tradizione italiana perché purtroppo la traduttologia è una disciplina che gode tra virgolette di una certa sofferenza nell'essere riconosciuta chi studia traduzione in italia lo fa ancora nei vari settori scientifico disciplinari non specifici che sono quelli delle lingue traduzioni ma ci sono specialisti provenienti anche dal campo della comparatistica dell'estetica l'estetica filosofica della filosofia insomma è necessario sarebbe necessario anche operare per una autonomia della disciplina e per una visibilità degli studi traduttologici di tradizione italiana in ambito internazionale cosa che vedremo sicuramente con l'intervento di franco nasi che fra poco vi presenterò le ultime due cose molto velocemente perché vorrei sentire insieme a voi gli interventi dei nostri ospiti prima cosa questo incontro si chiama percorsi di storia delle traduzioni nella ricerca traduttologica allora la storia delle traduzioni è sicuramente fondamentale nella ricerca contemporanea sul tradurre e vorrei ricordare a chi non fosse ancora capitato di imbattersi sulla pagina web del sito della società italiana di traduttologia che come due vis ne abbiamo scelta una che è quella di Gianfranco Folena il quale scrive in volgarizzare e tradurre per noi non si dà teoria senza esperienza storica l'esperienza storica è assolutamente fondamentale credo che i miei illustri colleghi saranno d'accordo nell'affermarlo per fare una ricerca adeguata sul tradurre seconda e ultimissima cosa prima di presentarvi franco nasi che il primo che sarà il primo a intervenire oggi vorrei ricordare che chi volesse tra dottoranti specialisti traduttori e colleghi che lavorano sulla sulla traduzione noi siamo aperti come società italiana di traduttologia alle vostre iscrizioni vi prego di sostenere le attività della site perché queste iscrizioni ci consentono anche di portare avanti il lavoratorio di traduttologia fra le altre attività previste dunque vi dicevo per noi non si dà teoria senza esperienza storica ce ne renderemo sicuramente conto con i due interventi il primo dei quale è quello di franco nasi che vi presento subito franco nasi è professore associato di linque e letterature anglo americane presso l'università di modena e reggio emilia ed è per me sicuramente una delle voci più significative nel panorama traduttologico italiano anglista e comparatista si occupa di letteratura contemporanea con una particolare attenzione rivolta alla teoria e alla storia delle traduzioni alla storia della critica e delle poetiche e ai problemi traduttivi specifici della letteratura per l'infanzia ha pubblicato tantissimo franco ne ricordo ricordo soltanto alcune delle sue pubblicazioni la mollenconia del traduttore nel 2008 del 2008 specchi comunicanti traduzioni parodia di scrittura nel 2010 traduzioni estreme nel 2015 tradurre l'errore che un'ultima fatica del 2021 ma vorrei anche ricordare eh ho capitano mio capitano curato da franco nasi che vi mostro che vi mostro qui perché ho avuto il piacere di accogliere nella nella collana dieci per uno di cui abbiamo già parlato a trento un paio d'anni fa e che accoglie traduzioni poetiche da varie lingue culture allora con angela albanese che qui e che saluto e che ringrazio franco nasi ha curato nel 2015 l'importante antologia capirete perché perché dico importante dall'intervento di franco nasi intitolata l'artefice aggiunto riflessioni sulla traduzione in italia dal 1900 al 1975 un'antologia che ha il grande merito di sottolineare l'importanza fondamentale della tradizione filosofico letteraria italiana nel dibattito contemporaneo sul tradurre da croce a danceschi a mattioli a terracini ma anche quasimodo pirandello e calvino ed è proprio di questo mirabile lavoro che ci parlerà franco nasi grazie mille franco a te la parola grazie grazie adesso non posso che deludere con queste parole allora questo è il libro di cui cercherò di parlarvi oggi è abbastanza corposo e riguarda appunto la traduttologia in italia arrivo a questo con una serie di diciamo considerazioni introduttive se riesco ad aprire il powerpoint devo condividere basta basta così è già condiviso con è già condiviso? fate voi perché io allora è questo? si grazie allora sì questo è un po' l'indicazione cercherò di parlarvi appunto di questa antologia che abbiamo curato con angela e lo farò per arrivare a fare qualche considerazione sulla storia l'importanza della storia della traduzione allora recentemente proprio in questi ultimi anni mi sono occupato mi è stato chiesto di fare un capitolo per un manuale di letteratura comparata di fare il capitolo sulla traduzione quindi mi sono messo a leggere le ultime cose per cercare di sintetizzare un po' il panorama dei translation studies come si chiamano in genere o traduttologia come amiamo chiamarla noi e ho letto varie cose che sono uscite negli ultimi anni e una parola che tornava continuamente era turn ci sono stati mille turn allora mi sono divertito a le incarni alcuni vabbè ce n'è uno che è un po' pre translation studies ma che potremmo definire o viene definito pragmatic turn quindi naida, rice, vermeer quindi la scopos teorie poi negli anni 70-80 il cultural turn con Basnet e Lefebvre poi deconstructionist turn con Derrida e tutta la scuola francese poi il cosiddetto ethical turn con Berman, Antoine Berman political turn con Venuti postcolonial turn con Spivak gender turn con Simone o Simon a seconda di come si vuole dire globalization turn con Cronin, identity sociological turn, c'è un bel libro curato da Cristina mi pare si chiama Wolf ecological turn che è questo bel libro ultimo fatto da Cronin pochi anni fa quindi anche una svolta ecologica in his translation studies spatial turn, di nuovo con Simon poi c'è un creative turn e non mi ricordo più il nome della curatrice quindi non ho avuto tempo di ritrovare il libro ma è una italiana che ha lavorato in Inghilterra che lavora in Inghilterra di nuovo la Basnet che aveva fatto il cultural turn adesso è uscita con un outward turn quindi un'uscita dai translation studies che lei ha definito così e poi ho trovato addirittura un linguistic return in translation studies ho detto qua abbiamo chiuso il circo e poi c'è un po' da perdere l'orientamento insomma con tutte queste svolte e poi Gensler è il post translation studies e anche Arduino un po' ha teorizzato su questo post translation studies insomma a me è venuta in mente una strada di montagna con tutti i tornanti perché continuamente ogni tre o quattro anni c'è un qualche libro che salta fuori con un'etichetta quindi abbiamo un turn allora è chiaro che chi è basica nell'accademia sa benissimo che questi turn tante volte sono funzionali a fare la carriera quindi bisogna presentarsi con qualche cosa di originale che vada contro qualcuno, che critichi qualcuno che ti ponga come originale e quindi ti faccia andare avanti perché poi si va a vedere le critiche tante volte sono un po' così pretestuose rispetto ai turn che ci sono stati in precedenza però ecco quando noi andiamo in montagna e appunto cerchiamo di guidare su questi tornanti andiamo in teoria verso una vetta quindi c'è un'idea che quello che c'è stato prima era un po' al di sotto e noi andiamo verso un obiettivo che sia un superamento di quello che c'era in precedenza e questo mi ha posto qualche problema cioè effettivamente stiamo andando da qualche parte dove stiamo andando c'è un superamento quelle cose che sono state dette prima sono tutta carta straccia e l'impressione un po' anche guardando le cose che sono uscite di recente direi gli sviluppi della tecnologia più recente può essere un po' frightening, spaventevole perché un'indicazione potrebbe essere al di là di tutti questi turn che stiamo andando verso invece un mondo in cui la traduzione sarà fatta dagli strumenti come ci racconta questo bel libro di David Bellows professore di Princeton, che è un francesista tra l'altro che ha un titolo, il libro non è ovviamente un inno alle traduzioni automatizzate ma riprende questa idea di Is That a Fish in Your Ear? che è una specie di apparecchietto che si metteva in questo romanzo fantascientifico degli anni 70 che ti traduceva da tutte le lingue quindi è un Babelfish, un auricolare che traduce in tutte le lingue quindi l'idea che il traduttore sia un animale in via di estinzione in un qualche modo perché presto ci saranno questi strumenti con questi algoritmi incredibili che forse sostituiscono la figura del traduttore e questo per me è un poco inquietante credo per molti di noi che si occupano di Translation Studies che forse intendono questa attività della traduzione non come un'attività meramente finalizzata al passaggio da una lingua ad un'altra o semplicemente finalizzata a una comunicazione all'aspetto semantico, se si può dire così, di un messaggio ma qualche cosa di più non ho molto tempo qui per parlare di altro però in quest'ultimo libretto che ho fatto appunto tradurre l'errore questa cosa mi ha un po' è stato uno dei punti che ho cercato di trattare in questo libro parlando appunto di Digital Dishumanities so che un inglese storcerebbe il naso di fronte a Dishumanities ma l'ho fatto apposto perché tradurre l'errore ha a che fare con le uscite dalla regolarità cioè queste Digital Humanities diciamo questi processi automatizzati della traduzione su che cosa si basano e verso cosa ci possono portare mi è venuto in mente appunto l'appendice del famoso romanzo di Orwell 1984 in cui si parla del New Speak questa nuova lingua che sarebbe funzionale a una dittatura sostanzialmente in cui nessuno può essere libero di pensare in modo differente dal pensiero dominante e questa New Speak questa lingua che viene introdotta e teorizzata dal grande fratello è una lingua che toglie tutte le ambiguità toglie le possibilità degli errori semplifica la lingua a livello quasi verrebbe da pensare che sarebbe un invito a nozze per i costruttori di traduzioni automatiche perché non ci sarebbero più espressioni idiomatiche o allusioni eccetera qui ci sono alcuni passaggi del Libron che non voglio leggere perché sennò impiegherei troppo tempo però è semplicemente una sollecitazione questo piccolo appendice è un po' un atteggiamento di ribellione nei confronti di questa lingua che diventa il simbolo di questa dittatura intellettuale di chiusura e di conservazione al punto che in quelle stesse pagine si dice che non esisterà più la traduzione non sarà più possibile comprendere ciò che è stato scritto nella Old Speak nella lingua che la comunità una sarà una volta perché non ci saranno più i termini per poter raccontare e quindi si cancellerà una parte della storia dell'umanità e tutto sarà finalizzato a quella comunicazione immediata non ambigua priva di errori l'errore invece è una forza sappiamo dominante è un'energia fondamentale per lo sviluppo delle lingue le lingue si sono sempre sviluppate attraverso degli errori attraverso delle deviazioni da quello che era il percorso stabilito questi sono alcuni passaggi del libro insomma sempre ripresi da questa parte finale ecco una cosa invece che mi ricollego a quanto diceva Antonio Lavieri prima una cosa importante secondo me al di là della teoria quindi tutti questi turn che sono importanti perché ci danno dei punti di vista diversi rispetto a questa attività anche se a volte lo fanno in maniera un po' dogmatica dobbiamo fare così ci devono essere i translation studies che guardano questa cosa le altre non importano accanto a queste teorie sulla traduzione è importante sempre ritornare all'esperienza del tradurre la cosa concreta del fare e una cosa che faccio con gli studenti appunto nel mio corso di teoria della traduzione che faccio da tempo è quella di farli giocare un po' giochiamo insieme con esperienza un po' come quella che ci raccontava Antonio Lavieri con quella sua collana 10x1 cioè prendiamo ad esempio un testo classico oppure non classico di Baudelaire potrebbe essere Colvigio in questo caso Saffo un frammento di Saffo andiamo a vedere come questo frammento è stato tradotto nella storia esercizio banale un esercizio che sarebbe utilissimo soprattutto all'insegnamento più che delle lingue straniere dell'italiano e quindi questo è appunto un frammento quindi un frammento poetico ma non c'è una rima non c'è insomma è un frammento che vedete una traduzione tramontata la luna con le pleie di la notte al mezzo il tempo trascorre io dormo sola questa è una traduzione più o meno appiattita sul testo di partenza e poi propongo agli studenti queste traduzioni e chiedo loro di individuare quale tra queste è quella che loro piace di più come primo approccio la seconda è di cercare di ordinarle cronologicamente e la terza domanda che faccio è di cercare di individuare il traduttore ovviamente senza speranza però a qualcuno poi ve le leggo velocemente tanto per darvi un senso anche di questa cosa allora quindi avete visto il testo originale molto secco una donna che dorme da sola e che è un po' triste insomma sostanzialmente è sparita la luna le pleiadi notte alta l'ora del tempo varca io dormo sola sparire le pleiadi sparì la luna e a mezzo corso la notte bruna già fugge rapida ogni ora intanto sola in le piume io giaccio in pianto tramontò la luna e le pleiadi e dal colmo è la notte e l'ora passa e io soletta mi giaccio Cinzia tramonta la fatal carola le pleiadi rimena tetto in braccio è mezzanotte l'ora passa sola intanto io giaccio è tramontata la luna e le pleiadi è mezzanotte e il tempo passa e Dio io dormo sola oscuro il cielo nell'onde la luna già sasconde in seno al mar le pleiadi già discendendo va è mezzanotte l'ora passa frattanto e sola qui sulle piume ancora veglio ed attendo in van e qua poi dopo io passo un'oretta con gli studenti a chiedere le loro impressioni quale piace di più come possono essere ordinati in modo cronologico che cosa vedono dal punto di vista stilistico di peculiari in ciascuna di queste a cosa collegherebbero queste poesie non abbiamo tempo di farlo ma è chiaro intanto succede sempre che qualcuno dica che la più bella è l'ultima scelta curiosa diversi dicono che la più bella è la seconda gran parte devo dire dicono che più bella la prima o la quinta quindi più moderne diciamo così però molti dicono anche la prima e poi dopo dico ma cosa vi viene in mente dicono Ungaretti e dopo faccio notare loro che Ungaretti forse ha scritto cent'anni fa le sue cose e che se quel modo di scrittura è entrato e diventato canonico e loro piace quello non è un buon segno è come se uno dicesse che macchina usi una ballilla forse neanche ce la e quando si fanno altre cose quindi questo però ci dice come la scuola ci plasmi ci dia un'idea di stile che poi si consolida e questo però incide anche spesso con le modalità che i traduttori in cui i traduttori operano cioè sempre un po' in retroguardia rispetto a quelle che sono le modalità di scrittura e poi si notano piccole cose tipo la scorrevolezza del secondo e poi dopo magari si rivela che è Foscolo che traduce questo quindi siamo a fine settecento e si vede anche la regolarità della sesta Giovane Leopardi quattordicenne che si cimenta a tradurre questo frammento di Saffo che però non è che faccia un grandissimo lavoro fa una cosa regolare ma è ingabbiata è rigida come soluzione poetica Ippolito Nievo la quarta con tutte queste figure le personificazioni mitologiche ecco tutto questo ci dice molto sulla periodizzazione sulla mano del traduttore e ci butta dentro a che cosa? Beh a una varietà di traduzioni ovvia una varietà di traduzioni che avviene nella storia quindi che si intreccia con quello che è la storia del gusto quindi darebbe da dire ma un computer nel settecento avrebbe tradotto come foscolo e un computer nel duemila tradurrà come invece quello della quinta no? Ci sarà una variazione nel modo in cui il computer traduce oppure il computer traduce in un certo modo perché noi lo istruiamo a tradurre in un certo modo aderendo a una certa linea no? Quindi a una certa strategia traduttiva ecco questi sono gli autori delle varie poesie giusto per darvi un'idea quindi paduano che il grecista era la quinta e Dio io dormo sola quindi l'unico accenno di poesia in questa ripetizione forzata fosco ecco poi recentemente è uscito questo libro molto bello piccolino ma corposo sono 600 pagine ma il volumetto è piccolino a cura di Chiara di Noia ed è appunto i lirici greci lei traduce i lirici greci ma in fondo c'è un appendice con tante traduzioni non di tutte le poesie che lei ha tradotto ma di alcune poesie significative per ogni poeta dell'antica Grecia e quindi da lì ho saccheggiato alcune altre traduzioni ed è interessantissimo vedere come quelle ad esempio che escono vedete più o meno negli stessi anni quindi segnano anche una felice ricezione di Saffo in quel momento hanno tutte la stessa musica no? un po' che ricorda l'arcadia cioè un movimento molto semplice le pleadi e la luna spariti in cessi in bruna la notte e mezzo il corso fisso tempo scorso quindi questa regolarità molto cantabile no? un po' alla metastasio quindi tante traduzioni che aggrediscono un testo che è un frammento in prosa in verità no? però lo rivestono con quella musicalità che è propria di quel periodo ci si sposta nell'ottocento vedete invece una modalità un po' diversa poi nel novecento abbiamo soluzioni invece più a parte romagnoli che questo grecista che invece è molto ottocentesco anche nelle sue traduzioni tramontate già selene e le plei e il celtiene mezzanotte l'ora vola io sono qui sopita e sola no? quindi proprio ha un tono ottocentesco e gli altri invece vanno appunto tra ungaretti poi invece rime poi fino ad arrivare a Quasimodo che ne combina una delle sue è bellissima la sua traduzione tramontate la luna e le plei ed è a mezzo della notte anche la giovinezza già di legua e ora nel mio letto resto sola poi appiccica questo frammento un altro frammento e crea una poesia completamente nuova ed è bellissimo scuote l'anima mia eros come vento sul monte che rompe entro le querce e scioglie le membra e le agita dolce amara indomabile belva ma me non ape non miele e soffro e desidero meravigliosa questa però sono due frammenti che lui mette insieme a formare una nuova poesia la sua traduzione di Saffo un riassemblaggio una ricreazione partendo da questa siamo appunto qua faccio squaderno faccio un omaggio a questa bella collana che ha inventato Antonio Lavieri dove vedete cose analoghe che vengono fatte con poeti da Polinera appunto curato da Paolo ad altri autori fondamentali dell'ottocento eccetera insomma di vari periodi c'è anche un Saffo tra l'altro molto interessante con una scelta particolare che va nella direzione di uno dei turn che dicevo prima dei Translational Studies cioè Sottera che decide di mettere solo traduttrici donne per Saffo decide di mettere solo traduttrici donne quindi segnando un percorso legittimissimo di appunto scelta e vengo adesso alla parte che ci avvicina questo artefice aggiunto ed è Luciano Anceschi Luciano Anceschi è stato infatti ho avuto la fortuna di averlo come professore all'Università di Bologna quando era molto anziano insomma quindi stava chiudendo però insomma ha fatto la tesi con la sua scuola ed è stato un filosofo ma comparatista sostanzialmente e ha scritto anche qui e là alcune cose sulla traduzione c'è un passo nel 1957 che vi voglio leggere ripreso dal Verri che era questa rivista che lui pubblica dal 56 ancora adesso c'è il Verri che è poi gestita dal figlio adesso e che è stato un po' il laboratorio per il gruppo 63 quindi la neoavanguardia poeti come Sanguinetti Pagliarani Balestrini erano stati tutti allievi insomma in qualche modo di Luciano Anceschi nel 57 quindi ben prima dei Translation Studies diciamo Anceschi scriveva le traduzioni ci danno il tono la misura il diretto significato del modo di leggere di un secolo di un movimento letterario di una personalità quel modo di leggere quel gusto particolare che nel discorso critico esige di essere trasposto sia pure per in Manigini in un erigere che può essere dato immediatamente nel modo con cui nel passaggio dal testo originale al testo tradotto si sottolineano certe ragioni formali se ne trascurano altre se ne ignorano dimenticano altre ecco quindi la traduzione ci dà questo tono questa misura di un secolo di un periodo no? ed è un atto critico in qualche modo sia pur minimo il tempo della distanza tra il testo originale e il testo tradotto tradurre è sempre un tentativo di far presente il passato questo è un passaggio bellissimo cioè noi quando traduciamo traduciamo un testo che è già stato e lo proiettiamo in un futuro o comunque in un presente quindi compiamo sempre un'operazione diacronica tradurre è sempre un tentativo di far presente il passato e non può essere che un'approssimazione il traduttore e chi rifletta sul tradurre non possono ignorare una condizione che riguarda la consapevolezza che l'uomo ha di sé nella sua integralità e cioè la impossibilità della ripetizione di uno stato nella sperimentata possibilità in cui ogni esperienza si trova di essere rivissuta continuamente nelle variazioni infinite del tempo vivente è una prosa novecentesca noi ci siamo spaventati da queste lunghe frasi ma il senso mi sembra chiaro cioè siamo dentro un tempo la traduzione è dentro un tempo c'è un passato che si fa presente nel lato della traduzione e si infutura in qualche modo e in questo atto noi sappiamo che non possiamo replicare perché la traduzione di per sé stessa non può essere una copia la traduzione perfetta è semplicemente una copia dell'originale quindi non è una traduzione sarebbe tautologica la traduzione perfetta neanche Borghi si arriva paradossalmente a dire anche la copia vera copia non è una traduzione perché è fatta nel tempo ma comunque noi sappiamo questo e sappiamo che viviamo in questo tempo in un tempo che cambia quindi in una storia questa storia inevitabilmente fa sì che la traduzione non possa che essere una chiama lui approssimazione ma questa è parte dell'essere vivente cioè non è una mancanza è un nostro dato di fatto così un attivo presente consapevole delle sue relazioni col passato può in questo passato portare una luce che lo stesso passato mai conobbe di sé quindi questo nostro tradurre può portare una luce anche interpretativa a un passato che non sapeva di essere questo è quello che fa la traduzione interpretando traducendo crea un nuovo testo o aumenta le potenzialità di quel testo di partenza lo diceva anche Novalis la traduzione è un potenziamento del testo originale di questa natura è l'esperienza profonda del tradurre dico di quel raro tradurre che non sia mostrare un eclissi di sole in un piccolo recipiente pieno d'acqua questa è una bellissima immagine quindi la traduzione non è guardare un eclissi dentro un recipiente o con lo schermo con gli occhialini che servono ma è vedere invece l'eclissi davvero quindi avere un testo che viva che viva che sia un eclissi esso stesso quindi la storia il passato la relazione col passato che è connaturata è dentro l'atto del tradurre un passato che si fa presente e si infruttura in qualche modo e la stessa importanza alla storia viene data ovviamente da Berman in questa sua bellissima introduzione al libro della prova dell'estraneo in cui a un certo punto dice la costituzione di una storia della traduzione è il primo compito di una teoria moderna della traduzione cioè comprendere lo sviluppo delle teorie della traduzione come la traduzione si è fatta attraverso il rapporto tra poe la relazione tra poetiche nel tempo è il punto di partenza di una riflessione sulla traduzione dice Berman questa idea del rapporto tra teoria della traduzione e storia è ribadita da un allievo di Luciano Anceschi Emilio Mattioli che è stato colui che in Italia insomma insieme a Folena diciamo per quanto riguarda l'importanza della storia ha dato delle chiavi per la traduttologia italiana ma credo anche non solo e che appunto scrive nel 1965 quindi siamo ben prima di quella che è la data canonica della nascita dei Translation Studies che di solito è il 72 78 insomma quegli anni di fronte alla molteplicità delle risposte contemporanee che si incrociano si accavallano si contraddicono i vari turns noi non lo sapeva che c'erano male sembra opportuna una sospensione del giudizio è utile invece una ricerca sulla teoria del tradurre qual essa è stata in alcuni momenti cruciali della storia cioè possiamo pur discutere lui non lo sapeva che c'erano questi turns quindi parlava così in generale cioè andiamo a vedere come è stata fatta veramente la traduzione no? qual è il portato di questo sempre nello stesso saggio Mattioli aveva forse 32 anni quindi mi pare forse del 33 Mattioli per rendere il discorso più chiaro possibile la tradizionale domanda si può tradurre di solito si può tradurre che cos'è la traduzione proponiamo di sostituire altre domande come si traduce che è senso ha il tradurre ancora una volta si propone di sostituire la domanda di tipo metafisico che cos'è la traduzione possiamo definire una domanda di tipo fenomenologico cioè andiamo a vedere come concretamente la traduzione si è fatta nel tempo e quale riflessioni sono state fatte su questa andiamo avanti sarebbe comodo poter dire si deve tradurre così ma c'è una confusione di piani quando si introduce in ambito letterario la precettistica propria della grammatica inevitabilmente l'imposizione di un metodo risulta riduttiva semplifica un problema complesso ignora la storia il problema che si pone è quello di arrivare ad ammettere la pluralità dei metodi senza cadere in un giustificazionismo illimitato in un relativismo primo di rigore cioè non dice ognuno faccia quel che vuole andiamo a vedere però facciamo un'analisi strutturata sistematica di quello che è stato l'esperienza del tradurre cerchiamo di ordinarla di vedere che cosa quel termine ha significato in un certo momento certamente Foscolo quando traduceva quella poesia che vi ho fatto vedere prima pensava di tradurla proprio bene molto meglio di Google Translate o di Deep L però oggi noi diremmo ma sì questa è però una rienterpretazione se guardiamo dall'ottica di Deep L o di Google Translate quindi devo capire qual è il contesto in cui quel atto traduttivo ha significato assume significato nel 600 francese una traduzione brutta e fedele era brutta e fedele e non si sposava era meglio bella e infedele dicevano loro con questa metafora maschilista insomma altro paladino del recupero della storia nella teoria della traduzione è stato Gianfranco Folena che tutti conosciamo come grande filologo e che scrive questo libro importante siamo ancora vedete agli inizi di quello che nel mondo chiamano in Translation Studies qua siamo nel 72 Folena in questo libro volgarizzare e tradurre dice delle cose molto importanti dice sostituiamo a quel bisticcio usato da Jacobson traditore traduttore traditore sostituiamo invece questo altro paronomasia traduzione tradizione quindi andiamo a vedere storicamente cosa questo ha comportato e lui da filologo lo fa guardando proprio la nascita delle lingue europee i conflitti tra le lingue un altro termine chiave in questa discussione conflitto tra le lingue che è un altro dei momenti importanti della riflessione di un grande linguistico italiano che è Terracini ben prima appunto del Cultural Turns di Lefevre cioè già negli anni 50 Terracini diceva delle cose importantissime sul rapporto culturale e la nascita delle lingue come nelle traduzioni e i conflitti tra le lingue bene e vengo al libro cinque minuti ancora dieci vengo al libro qua faccio molto velocemente anche se il libro è come ho detto è abbastanza spesso ecco diciamo così e devo dire che appunto Angela Albanese avrebbe più diritto di me di parlare di questo libro io ho avuto l'idea e poi dopo Angela ha fatto tutto il lavoro di ricerca e io ho poi scritto l'introduzione e ho fatto una bella figura però insomma il gran lavoro l'ha fatto lei l'artefice aggiunto riflessioni sulla traduzione in Italia 1900-1975 percorsi di lettura Longo Ravenna perché artefice aggiunto questa immagine mi piaceva metterla perché da una parte c'è vedete uno dei primi laboratori elettronici di Olivetti siamo ai primi anni 60 quindi quello che noi abbiamo adesso in un piccolo cellular phone in un telefonino qui era una macchina enorme poi se non fosse morto Adriano Olivetti e la storia di Ivrea fosse finita così tragicamente magari la Silicon Valley l'avremmo avuta in Piemonte però non l'abbiamo fatto però negli anni 60 50 60 c'era già questo mito di poter tradurre appunto testi con le macchine con i computer e naturalmente ci sono tanti aneddoti su questa prima fase in cui si cercava di fare con i computer le traduzioni tipo out of mind out of sight questo piccolo aneddoto che forse conoscete si diceva che questa frase out of sight out of mind era stata messa dentro un computer e tradotta in giapponese e poi ritradotta in inglese quindi la back translation dovrebbe validare l'atto traduttivo ed era tornato fuori in inglese blind and crazy cioè la frase out of sight out of mind più o meno potremmo tradurla lontano dagli occhi lontano dal cuore questo è un po' l'idea no? cioè una cosa che non vedi non ci pensi però out of sight viene evidentemente la frase non viene vista come un insieme ma viene parzializzata quindi diventa blind senza vista out of mind è uno sballato no? quindi crazy e così viene fatto un altro esempio adesso era the spirit is willing but the flesh is weak che è un passo di credo di San Paolo o forse di Matteo non mi ricordo comunque è un passo del Vangelo del Nuovo Testamento e quindi the spirit is willing quindi io vorrei fare una cosa ma the flesh is weak quindi la carne poi mi fa peccare è debole e salta fuori fanno il giochino con il russo e dicono viene fuori come era il whisky è buono ritraduco in Italia il whisky quindi spirit diventa whisky è buono ma la carne è andata male no? e quindi questi qua erano i tentativi degli anni 50 60 poi adesso ovviamente grande rispetto per Deep L e questi traduttori automatici che fanno cose oggettivamente incredibili però per un certo tipo di testi ancora non funziona l'altra immagine è naturalmente Alan Gainsbourg seguito da Fernanda Pivano che è appunto la grande traduttrice dei beat americani e qua mi piaceva questa fotografia perché dà l'idea un po' di un'ombra del traduttore come un artefice aggiunto cioè insieme stanno facendo un percorso quindi questa espressione è ripresa poi vi dirò da un saggio ragione di una ricerca e metodo perché abbiamo fatto questo lavoro perché appunto guardando un po' le antologie sulla traduzione quelle più diffuse almeno che usavo anche nei corsi vedevo che c'era una mancanza completa quasi totale di autori italiani ora non sono un patriota voglio dire in tempi in cui bisogna essere patrioti per diventare Presidente della Repubblica io non sono un patriota sono una persona italiana ma non è che l'ho fatto per sciovinismo nazionalistico semplicemente c'erano autori che avevo letto che mi sembravano molto interessanti che dicevano cose che poi altri avevano detto dopo solo che gli altri avevano attaccato un label un'etichetta vincente e ho detto forse non è tanto giusto soprattutto quanto in un mondo in cui come l'accademia si parla di globalizzazione di attenzione all'altro di rivalitazione delle minoranze eccetera poi c'è questa soffocante invece dittatura di un certo tipo di accademia veramente insopportabile secondo me dico anche determinata dal fatto che poi gli italiani non si traducono eccetera quindi vabbè comunque detto questo Robinson che è una bellissima antologia di passi da Erodoto a Nice venuti una bella antologia sul novecento e la Sirin Ergard bene in tutte queste gli unici italiani che sono antologizzati sono Leonardo Bruni che peraltro scrive in latino Benedetto Croce e Umberto Eco e voglio dire Umberto Eco grandissimo però secondo me la sua teoria della traduzione cose che ha scritto sulla traduzione di Umberto Eco non sono la cosa più importante che ha fatto il trattato di semiotica generale è un libro importante di Umberto Eco il suo libro dire quasi la stessa cosa è interessante ma insomma non è un libro fondamentale per gli studi che abbiamo quindi avevo notato questa marginalità della tradizione italiana nelle antologie quindi vi leggo solo alcuni passi brevissimi dell'introduzione sorprende che tanti contributi al problema del tradurre provenienti da filosofi filologi linguisti critici degli stessi traduttori prodotti in Italia nel novecento non siano considerati da chi tenta di ricostruire la storia della nascita di una disciplina accademica strano se si pensa che fra le caratteristiche forti di una disciplina internazionalmente debole polisistemica comprensiva e problematica ci sono la multidisciplinarità l'apertura alle culture altre e periferiche rispetto al centro del sistema sia esso accademico economico o linguistico e qua è un po' il punto centrale insomma diversi argomenti topici dei translation studies come la sostituzione di un approccio normativo con uno descrittivo la considerazione culturale non solo linguistica dell'atto del tradurre la traduzione come dialogo e conflitto fra culture l'importanza di studiare la tradizione della traduzione per cercare di comprendere meglio le fluttuanti definizioni di questa attività l'impossibilità di pensare alla traduzione in termini di duplicazione la distinzione fra ermeneutica comprensiva e riproduttiva la centralità del lato traduttivo in ogni momento comunicativo sia esso intra o interlinguistico o la sua valenza etica ed esistenziale sono affrontati spesso con grande acume anche da autori italiani ben prima degli anni 70 del 900 cioè questi sono tutti temi che magari costituiscono uno di quei turn che ho detto all'inizio ma che poi c'erano già in tanti autori non dico che sono stati preveggenti di italiani dico che a volte è un po' forzato mettere delle etichette su queste innovazioni che poi insomma vuole dire e quindi abbiamo deciso di fare questa antologia ci siamo messi di buona lena abbiamo cominciato a scartabellare cercare dei testi pubblicati sulla traduzione che venissero da vari ambienti appunto linguisti filosofi traduttori eccetera il titolo è saltato fuori da questo saggio scritto in inglese da Renato Poggioli un personaggio incredibile un intellettuale con i fiocchi che se n'è andato dall'Italia durante il fascismo è arrivato in America dopo pochi anni ha preso la cittadinanza in America ha insegnato un po' aier poi è diventato professore ad Harvard è diventato il capo del dipartimento di slavistica ha assunto Jacobson giusto per citare uno e nel 59 partecipa a questo volume in cui c'è anche il saggio importante di Jacobson Translation con i tre dpi di traduzione che abbiamo studiato tutti e lo intitola The Edited Artificer e questo saggio non era mai stato tradotto in italiano e l'abbiamo tradotto in questa antologia e ci è piaciuto tanto il titolo che abbiamo detto usiamo questo titolo per la nostra antologia proprio perché dà l'idea appunto che c'è un artista e il traduttore è un artefice cioè colui che fa poiesis quindi colui e che si aggiunge a questo come è strutturato il libro adesso molto velocemente vi dico come è organizzato c'è un'introduzione generale e poi abbiamo scelto delle pagine di 42 scrittori autori antologizzati eravamo partiti da un numero più più bello no? ma 11 poi dopo sono diventato allora 33 e poi dopo siamo arrivati a 42 e ci siamo dovuti fermare perché sennò diventava troppo grossi ogni autore viene introdotto da una paginetta o due pagine introduttive in cui cerchiamo di inquadrare un po' quel testo che dà appunto notizie biografiche e introduce l'argomento trattato nelle sue pagine quali sono le fonti abbiamo guardato i pochissimi trattati sulla traduzione cioè libri apposta scritti apposta per la traduzione molti saggi invece che sono parsi su riviste e così oppure paratesti quindi introduzioni postfazioni però tutte pubblicate con la scelta è stata di mettere solo cose pubblicate l'abbiamo ordinato in modo cronologico che ci sembrava la cosa più logica più semplice e in questo diciamo testo ci sono varie figure di traduttore no? quindi e qua vi farò e poi c'era il problema delle quote rosa di cui vi dirò figure del traduttore questo è chiaramente non è l'ordine del libro perché è ordine cronologico però abbiamo individuato alcune diversi tipologie di traduttore i traduttori traduttori cioè gente che lo fa di professione che dovremmo guardare di più con più attenzione e più rispetto dico noi accademici cioè c'è gente là fuori che traduce da una vita che fa delle cose meravigliose che suda sulle traduzioni ogni tanto fa delle belle riflessioni sulla traduzione che magari non sono così rigorose no? e accademicamente impostate ma sono piene di saggezza quindi Manara Valgimigli un grecista fantastico traduttore del teatro greco ma anche dei filosofi Romagnoli che è quello che invece traduceva in questo modo un po' ottocentesco Erwinio Pokar o Pokar germanista Fertonani e Lapivano ecco questi sono traduttori diciamo di professione traduttori poeti Quasimodo che introduce i suoi lirici greci con alcune paginette che sono veramente sollecitanti Solmi Dalfabro Valeri naturalmente il periodo va dal 1900 al 1975 l'idea magari è poi di proseguire finito? ci sono cinque minuti no no traduttori scrittori Pirandello Bianciardi Ginzburg Pasolini traduttori editori Borgese un altro personaggio incredibile che poi va in America è un professore dell'Università di Milano che però inizia una casa una collana per mondadori di classici tradotti per la prima volta in italiano grandi classici i russi ad esempio no ma non solo il francese eccetera Polledro anche lui fa la stessa cosa con gli autori russi Calvino che è naturalmente uno scrittore ma noi abbiamo preso una pagina in cui parla della sua attività editoriale rispetto alla traduzione Gobetti Gobetti che anche lui fa l'editore e poi scrive in questo bel saggio sul teatro traduttori critici quindi Pras Cecchi Contini Fortini Poggioli Chinole Baldini e poi linguisti Terracini Devoto Simone Filologi Sabadini Folena storici della letteratura insomma vedete tutti questi nomi il ventaglio si apre fino a filosofi da Croce a Gentile Parison Betti Emilio Betti Ugo Betti è il fratello Emilio Betti che è stato un grande giurista che ha scritto delle pagine importantissime sull'interpretazione e la traduzione rispetto al tema e ha un dialogo con niente po' di meno che con Gadamer cioè un personaggio che in Germania era stato considerato e discusso molto di più in Italia se ne sono occupati solo i giuristi insomma ma è un libro importante Galvano della Volpe Anceschi e Mattioni ecco quote rosa allora io qua mi giustifico subito dicendo che Angela ha lavorato con me qua chiedete a lei perché ci sono poche donne noi ci abbiamo messo tutto l'impegno possibile tantissime grandi traduttrici pochissimi saggi scritti da traduttrici saggi pubblicazioni poi ci sono le lettere che questo è scritto potevamo fare quello io ho cercato nell'introduzione di mettere cose di calzecchi onesti che è un grande traduttrice dal greco abbiamo probabilmente letto tutti di lia dell'odissea nella sua traduzione però non c'erano saggi questo naturalmente dice molto sui rapporti di forza anche nell'accademia per cui questi sono alcuni nomi rosa calzecchi onesti la lussu la vina mazzucchetti grandissima la Cristina Campo la Rodokanaki che ha avuto tutta una vicenda con Montale appunto la chiamavano appunto la loro la schiava negra insomma perché questa faceva le traduzioni poi Vittorini e Montale ne riprendevano ne mettono un po' posto eccetera ecco purtroppo abbiamo trovato pochi saggi pubblicati però la loro presenza è assolutamente fondamentale nell'ambito dell'attività della traduzione poi naturalmente il libro si può leggere anche in altri modi cioè prendendo dei percorsi quindi vi ho fatto vedere prima le figure dei traduttori però si può leggere anche vedendo dei percorsi trasversali cioè dove viene trattato il tema della poesia abbiamo fatto un indice analitico insomma in cui abbiamo cercato di dare delle indicazioni quindi si possono vedere dei saggi sulla traduzione di poesia traduzione di testi teatrali traduzione di narrativa traduzione di teoria traduzione di secondi filosofi secondo i linguisti filologi e qua ho quasi finito e qua poi ci sono tutti i nomi ma adesso questo ve lo risparmio semplicemente vi faccio vedere come ad esempio la traduzione della poesia viene affrontata da tutti questi autori che immagino conosciate almeno di nome insomma sono tutti personaggi di grande rilevanza che hanno scritto pagine e così per tutti gli altri traduzione teatrale che un altro capitolo interessantissimo con il dibattito su come si traduce Shakespeare qua non ho tempo per entrare nel merito narrativa editoria questo Padellaro Nazareno Padellaro ad esempio molto interessante fa un intervento sulla traduzione con la censura della traduzione dei libri per l'infanzia durante il fascismo cioè lui fascista ha dichiarato che fa un intervento terribile contro la traduzione di Alice perché corrompe lo spirito dei giovani italiani poi filosofi eccetera e chiudo con l'ultima citazione di Mattioli che è stato appunto mio maestro e anche di Antonio Lavieri e dice in questo bel libro il problema del tradurre questo a me è un saggio del 2004 però è stato ripubblicato adesso in una raccolta di saggi di Mattioli per un editore curato da Antonio Lavieri dice vi leggo questa citazione e chiudo così questo a me sembra l'esito attualmente più accettabile del dibattito sulla traduzione letteraria esito ovviamente esito ovviamente non definitivo ma probabilmente gli esiti definitivi in questo ambito non si danno come non si danno in generale nell'estetica e nell'arte imparare a convivere con la provvisorietà non è una rinuncia ma una conquista significa infatti riconoscere alla traduzione una partecipazione profonda e una funzione nell'ambito della vita dell'arte e aprirsi a una comprensione non pregiudicata di queste attività la cui centralità è fortemente presente nella coscienza culturale del nostro tempo tanto da configurarsi come un punto di riferimento per il riassestamento dei saperi quindi questo passaggio imparare a convivere con la provvisorietà imparare a convivere con quei turn senza pensare di arrivare poi a una cima ma questa è la nostra dimensione grazie grazie a te Franco per questa bellissima presentazione su cui ritorneremo e passo immediatamente a presentare Christopher Randall che è professore di lingua e traduzione inglese preso il dipartimento di interpretazione e traduzione dell'università di Bologna e anche honorary research fellow presso l'università di Manchester è autore tra le altre cose ne ricordo alcune delle sue pubblicazioni di Publishing Translation in Fascist Italy del 2010 che è stato recentemente tradotto in italiano con il titolo Il vizio dell'esterofilia editoria e traduzioni nell'Italia fascista nel 2019 è questa traduzione ed è anche curatore dei volumi Translation Under Fascism del 2010 e Translation Under Communism del 2021 quindi questo è recentissimo ricordo anche che è curatore di The Routledge Handbook of Translation History del 2021 ed è co-curatore della collana Routledge Research on Translation and Interpreting History ed è direttore della rivista di studi traduttologici intralinea e co-fondatore del History and Translation Network grazie di essere con noi a te la parola posso togliere la maschera? grazie 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 mille per grazie per l'invito grazie Paolo e Antonio per questo invito grazie a voi che siete qui ad ascoltarci e anche quelli che sono online io vorrei parlare della mia ricerca e anche di cosa può implicare per i studi storici sulla traduzione in generale quindi semplificando un po' possiamo dire che Franco ci ha parlato di due filoni della ricerca storica sulla traduzione che è la ricerca sui testi e anche specialmente verso la fine la storia dei traduttori o se vogliamo anche gli interpreti che sono diventati anche un oggetto molto studiato negli ultimi vent'anni più o meno da quando c'è stata l'invizione dell'Iraq in poi e io vi proporrei se vogliamo una terza dimensione quella mancante in qualche modo che è lo studio o la ricerca storica sulla traduzione che si focalizza sul contesto quindi il luogo dove la traduzione avviene e cosa la traduzione in realtà ci può rivelare di quel luogo di quel contesto di quel tema storico quindi in qualche modo rovesciando la prospettiva in inglese direi la translation lens attraverso la quale guardare la storia e ve lo farò ve lo racconterò attraverso un esempio che è Chris scusami puoi avvicinarti un po' al microfono mi sentite rischio poco ok scusa temevo di fare il rumore così va meglio devo ripetere tutto no ok va bene però non avanza va bene quindi parlerò della traduzione durante il fascismo in Italia dove l'idea è di di capire che cosa gli studi sulla traduzione ci possono far capire del fascismo quindi il mio oggetto è il fascismo più che la traduzione la traduzione è una lenta come dicevo prima attraverso la quale guardare il fascismo quindi perché la traduzione è importante nella storia di questo periodo per vari motivi il primo è che alla fine degli anni 20 inizio anni 30 c'è stato un boom nelle traduzioni in generale nell'editoria della letteratura popolare dei romanzi popolari specialmente i gialli alimentato dalle traduzioni cioè è stato il successo delle traduzioni a creare quello che si può tranquillamente definire un'industria dei romanzi popolari e quindi questo è il primo dato se vogliamo che poi andrò a spiegare meglio in dettaglio l'altra cosa è che nel 32 fu lanciato una rivista importante che si chiama l'index translationo che ahimè da qualche anno non aggiornano più che è stato lanciato da questo istituto per la cooperazione culturale a Parigi sotto l'egita della lega delle nazioni dove raccoglievano statistiche sulle traduzioni inizialmente in sette paesi europei poi man mano aggiungendo sempre più paesi e quindi per la prima volta era possibile fare un confronto abbastanza facilmente tra i numeri di traduzioni pubblicati nei principali paesi occidentali industriali e questo è l'altro dato importante e su cui si è dibattuto molto all'epoca quindi in questa storia non si parla molto dei testi degli autori o dei traduttori ma si parla delle statistiche e delle ondate o delle invasioni da parte delle traduzioni e del valore simbolico che questa invasione può avere a seconda della tua posizione ideologica va bene quindi parliamo innanzitutto delle statistiche quindi le statistiche dimostravano senza assoluta ambiguità che Italia pubblicava più traduzioni di qualsiasi altro paese al mondo già questo forse sorprendente sicuramente lo era per me quando abbiamo fatto questi calcoli un altro dato interessante forse anche questo inaspettato visto il clima politico che c'è stato tra Italia e i paesi anglofoni sicuramente dal 36 in poi che l'inglese era la lingua di partenza in assoluto più frequente negli anni 30 negli anni 20 era il francese ma negli anni 30 è diventato l'inglese e l'altra cosa è che abbiamo detto ho detto che è nata una specie di industria delle traduzioni questo sull'onda del successo dei romanzi popolari è importante capire qual è stato l'impatto di questi romanzi per i scrittori o per il mercato italiano diciamo fino alla fine degli anni 20 se possiamo ipotizzare che un romanzo tipico italiano pubblicato in quegli anni poteva vendere nell'arco non so di 5 10 anni se andava bene 5.000 copie se era proprio benissimo 10.000 i primi 4 gialli mondadori che sono usciti nel 29 hanno venduto 50.000 copie in un mese quindi è un impatto devastante per il mercato quindi quando poi sentiremo parlare dell'invasione delle traduzioni io personalmente simpatizzo per questi autori che hanno visto arrivare questi star americani o britannici tipo Agatha Christie Diego Wallace questi personaggi qua li hanno spacciati via spazzati via praticamente e l'altra cosa interessante è che loro prendevano queste statistiche e confrontavano i numeri di traduzioni in italiano e i numeri delle traduzioni pubblicati dall'italiano quello che loro chiamavano la bilancia culturale al femminile non so bene perché che era sempre in negativo nel senso che il numero di traduzioni in italiano era nettamente superiore rispetto a quelli fatto dall'italiano e vi farò vedere fino a che punto e guardavano con ammirazione invece la Germania dove questa bilancia culturale era nettamente positiva anche se in Germania si lamentavano perché molti di questi testi che venivano tradotti dal tedesco erano scritti da autori o ebrei o in esilio perché antinazisti ma ognuno guarda i dati secondo le proprie interesse e per gli italiani erano dei dati positivi quindi vi faccio vedere in maniera molto schematicamente alcuni dati dovete solo guardare la colonna evidenziata in blu qui potete vedere la proporzione di traduzione rispetto alla produzione totale di libri e basta notare che la colonna italiana dei cicli sono regolarmente il doppio rispetto alla Francia e alla Germania quindi non è solo una questione di numeri assoluti ma anche di proporzione rispetto alla produzione globale primo dato secondo dato se guardiamo la prima colonna sono le stesse cifre che abbiamo appena visto ma se guardiamo l'ambito solo della trattura narrativa come vedete le proporzioni sono tre volte tanto quindi molto consistenti e ricordiamoci che molti di questi libri vendevano 20, 30, 40, 50 mila copie e quindi una presenza un'invasione molto importante e che molti hanno subito in maniera abbastanza traumatica qui di nuovo una rappresentazione molto schematica delle lingue di partenza principali quindi quella inglese è la colonna blu scuro potete vedere che dall'inizio degli anni 30 in poi c'è un gap lì perché i dati mancano l'inglese diventa sempre più dominante come lingua di partenza e più andiamo avanti nel clima diciamo politico più aspero tra l'Italia e la Gran Bretagna e l'America più in realtà aumenta la presenza di libri tradotti dell'inglese curiosamente e questa è la bilancia culturale di cui vi parlavo quindi colonna rossa vedete notevolmente negativo i dati tedeschi che gli italiani tanto ammiravano all'epoca nettamente in positivo allora questo per me è interessante in sé ma è anche interessante perché loro discutevano di questi dati io ho trovato resoconti di incontri della federazione degli editori dove parlavano di questi dati si lamentavano della brutta figura che stavano facendo perché stavano diventando troppo recettivi troppo passivi come mercato e dubbi su come dovevano reagire per correggere questa situazione quindi è importante non ve lo dico io ma perché loro ne parlavano ed era importante per loro e vi ho messo una piccola citazione per darvi un'idea di come loro inquadravano questi dati il totale dei libri tedeschi tradotti supera certamente quella dei libri stranieri tradotti in tedesco il pensiero tedesco si riadia fuori dai confini più di quanto non si sente all'influenza delle letterature straniere in Germania e nei paesi di lingua tedesca l'idea è questa che loro si irradiano nel mondo e si espandono culturalmente invece in Italia lo straniero si sta espandando in casa nostra in sostanza dico nostra anche se non sono italiani ci furono quindi due campagne due reazioni più o meno organizzate contro le traduzioni la prima meno organizzata la seconda più la prima fu una reazione contro questa invasione che abbiamo appena accennato l'arrivo di tutti questi best sellers e in particolare anche l'arrivo di nuovi generi il giallo in particolare che ha scompigliato il mercato ha creato molto disagio da parte di molti intellettuali scrittori persone interessate diciamo alla letteratura e l'editoria e loro accusavano questi libri di essere innanzitutto di promuovere ruoli sociali devianti in qualche modo valori assolutamente non in linea con quelli del fascismo di essere di qualità scadente sia nella produzione sia nella traduzione nella lingua italiana usata nelle traduzioni perché fatte con grandi velocità e naturalmente senza molto cura della qualità secondo loro almeno e sono uscite una serie di articoli su riviste e nei giornali sono stati fatti anche dei soddaggi da parte di una rivista non mi ricordo come si chiama settimanale di di avanguardia fascista una cosa del genere non mi ricordo più che ha mandato una lettera a tutti le figure principali del mondo e dell'editoria chiedendo la loro opinione su questa invasione e tutto questo parlare sulla il problema della traduzione o l'invasione delle traduzioni ha messo sotto pressione la federazione degli editori e cominciavano a sentirsi abbastanza assediati vi do un piccolo assaggio del clima che si stava creando in questo momento quindi questo è tratto da un articolo nel giornale La Sera l'elenco delle opere pubblicate negli ultimi tempi dimostra della futilità del provvisorio della commercialità del facile smercio in gran parte sono libri stranieri i più maltradotti trascurati stampati pretenziosamente con stramba fisionomia ma rilegati e zeppi di eroe di rifosi insomma non si salva nessuno e questo è solo un esempio di tantissime lettere di questo genere e alcuni anche scritte da persone insomma di una certa visibilità quindi che non si potevano facilmente ignorare e per far capire la reazione degli editori e quanto loro si sentissero sotto pressione e anche il valore ideologico che veniva dato a questa questione ho tratto una piccola citazione da un'assemblea della federazione degli editori dove parlava il vice presidente Antonio Vallardi e lui diceva altro fenomeno che merita la nostra attenzione è quello delle traduzioni in realtà era l'argomento principale dell'incontro però loro la camuffavano in questo modo l'Italia è il paese che traduce di più come prova l'index translationum in modo irrefutabile è un bene o un male che l'Italia sia la maggior tributaria dell'elettoratura straniera questa frase secondo me è molto significativa è sempre visto in questa forma di essere invasi di essere troppo passivi troppo recettivi è un problema che investe essenzialmente la letteratura a mena il che è vero mentre nella scienza nell'arte nelle discipline storiche come nelle giuridiche nella filosofia nella didattica l'Italia è ormai quasi del tutto svincolata dalla suditanza straniera a parte vero ma il mercato in realtà è dominato dell'elettoratura a mena e quindi diciamo è small comfort si direbbe in inglese per questa cosa qua comunque avete capito le due frasi chiave maggiore tributaria e suditanza straniera vi dà l'idea di come veniva inquadrata questa questione e di quanto era carico di significato per gli editori in questo momento ci fu poi non è successo niente nel senso che tutta questa parlare questo discutere non ha prodotto nessun tipo di reazione o di misura per quello che sono riuscito a capire ci fu poi una seconda campagna molto più decisa aggressiva e anche più organizzata perché era guidato dal sindacato degli autori scrittori guidato da Marinetti che era molto aggressivo e come posso dire molto investito da questa causa che lui ha caricato anche secondo me perché ha capito che era un modo per avere una certa visibilità e guadagnare anche un po' di credito politico quindi loro siamo negli anni subito dopo l'invasione dell'Etiopia e naturalmente gli anni delle sanzioni della Lega delle Nazioni e l'autarchia economica applicata come campagna anche politica ideologica che investiva tutta la società italiana e che ha creato anche un momento di coesione oserei dire tra il popolo e il governo era un'occasione perfetta per andare a attaccare gli editori colpevoli naturalmente di non rispettare questa autarchia perché importavano senza ritegno tutti questi autori stranieri quindi loro dicevano così come abbiamo l'autarchia economica dovremmo avere anche un'autarchia culturale è solo logica e quindi loro proponevano la creazione di una specie di commissione ministeriale non aveva una forma molto concreta ma avevano proponevano delle misure abbastanza concrete la commissione doveva avvaliare le traduzioni per limitare il loro numero e anche per fare un controllo di qualità sui testi che venivano tradotti volevano che fosse imposto un sistema di reciprocità cioè noi traduciamo un libro inglese solo se in Inghilterra viene pubblicato un libro italiano specie notate per quanto riguarda la letteratura narrativa e la cosiddetta letteratura gialla conferma che è la cosa che più li irritava era il successo di questi libri qua volevano anche un albo dei traduttori che avrebbe avuto l'effetto praticamente di di spostare un po' il centro come posso dire di togliere i traduttori dall'influenza degli editori e metterli più sotto l'influenza degli scrittori se fossero riusciti a farlo ma in realtà non se ne fece niente quindi insomma una autarchia culturale letterario che era facile naturalmente da promuovere nel clima che c'era in quei giorni ma era anche naturalmente acqua verso il loro mulino perché loro in questo modo speravano di limitare la presenza di autori stranieri nel mercato italiano e naturalmente potete immaginare immaginare quanto fosse difficile per gli editori difendersi contro questi attacchi perché era attaccato la loro il loro patriotismo la loro fedeltà verso il regime e anche questa politica di autarchia in generale la cosa strana è che non ci fu nessuna reazione da parte del regime neanche qui e difficile spiegare perché proverò a fare una qualche ipotesi dopo ma per il momento per quello che si è riuscito a capire dai documenti esistenti non c'è stata nessuna reazione la posizione degli editori dicevo era molto difficile e loro cercavano disperatamente di girare la questione cioè di trovare qualche spiraglio di speranza perché si potesse non fare quello che tutti volevano cioè limitare le traduzioni che per loro naturalmente erano una componente importante del loro business e che portava molti profitti quindi lui diceva Franco Ciarrantini che era il presidente della federazione degli editori diceva questo nel novembre del 37 l'autarchia si può raggiungere nel campo editoriale stimolando una produzione nazionale scientifica artistica e letteraria sempre più copiosa mercella quale pur non disimpegnandosi dalla necessità di conoscere quel che si fa all'estero si rendono gli altri paesi sempre più tributari del nostro la visione utopica degli editori in quel periodo e in realtà però qui lui facendo ha una risposta che loro spesso davano che quando gli autori italiani li accusavano di pubblicare troppi best seller stranieri loro dicono allora scriveteli voi i best seller e noi volentieri li pubblichiamo quindi non senza ragione a mio avviso però insomma qui le questioni di mercato erano solo una parte del problema come avete capito quindi Marinetti non molla ho scelto questa frase apposta e lui nel gennaio del 38 siamo nell'anno in cui verranno introdotti le leggi razziali quindi il clima era sempre più teso diciamo così per quanto riguarda le traduzioni fu fece votare un ordine del giorno da parte del direttorio dell'Emilio Romagna del sindacato degli autori degli scrittori che è un bellissimo esempio di retorica fascista e diceva consideriamo indispensabile per l'autarchia letteraria ora urgente scartare come se fosse un telegramma praticamente dalla traduzione e pubblicazione i tre quarti delle opere straniere che alcuni editori impongono basandosi sul non abbastanza vittuberato antico e permanente vizio italiano che noi chiamiamo esterofilia da qui il titolo del libro questa esterofilia avendo come conseguenza la denigrazione del prodotto letterario italiano trova nella moltiplicazione dei mediucrissimi romanzi il suo ignobili alimento quindi questa era questa la ritorica con la quale loro accusavano gli editori e ho sempre pensato che era gli editori si sono trovati in una situazione molto difficile perché per Marinetti era facilissimo sembrare diciamo in linea con la politica del fascismo e per gli editori era impossibile però al fondo stavano semplicemente difendendo il loro lavoro il loro operato che era assolutamente legittimo e che il regime lo considerasse legittimo è confermato a mio avviso dal fatto che non hanno intervenuto non sono intervenuti fino al 38 poi adesso quanto tempo ok facciamo così devo accelerare perché se no arrivo fino in fondo però diciamo che salto lo slide sulla censura generale fascista e ci conteniamo subito sui libri ok quindi non c'era un sistema preventivo sistematico di censure dei libri i libri fondamentalmente venivano monitorati controllati al momento della distribuzione nel senso che alcune copie venivano inviate alla prefettura e in teoria venivano controllate ma in pratica il controllo non era molto sistematico ma non era necessario fare un controllo sistematico perché uno perché i potenziali problemi si conoscevano e bisognava evitare suicidi aborti incesto altre direzioni diciamo così morali sessuali e quant'altro scene pornografiche o eccessivamente erotiche e naturalmente qualsiasi critica a Mussolini il regime o all'Italia e quindi questo si sapeva non era scritto da nessuna parte ma si sapeva quindi gli editori i traduttori le persone che lavoravano nelle case editrici lo sapevano valutavano i testi in base a questi criteri se era possibile fare dei tagli il testo lo pubblicavano se non era possibile non lo pubblicavano fondamentalmente qualche volta li facevano questi tagli anche in accordo con gli autori che si rendevano conto che senza il taglio il libro non si poteva pubblicare vale la pena dire che c'era un rapporto abbastanza collaborativo tra gli editori e il ministero della cultura popolare che era il censore di stato in quel periodo quindi loro delle volte mandavano le bozze al ministero chiedendo un parere preventivo in via informale questo per evitare magari di dover rifare un libro quando era già pronto e pronta per la distruzione e regime devo dire basandomi su i documenti che sono nell'archivio Mondadori e Mondadori forse non era proprio un editore tipico però diciamo comunque che c'è almeno alcuni potevano godere di questo rapporto abbastanza collaborativo con il ministero poi ho trovato dei documenti che provano che delle volte addirittura il regime compensava gli editori quando un libro era stato bloccato dalla censura ho trovato una lettera a Mondadori che era stato bloccato un libro non mi ricordo qual era e quindi gli avevano permesso diciamo di esaurire le copie che erano già in vendita ma quelli che non erano ancora state distribuite dovevano essere bloccati e gli offrivano di comprare 300 copie dell'ultima biografia di Mussolini che avrebbero mandate nelle biblioteche delle case del fascio o qualcosa di questo tipo abbastanza sorprendente per chi magari si è fatto una idea del fascismo basandosi sul nazismo dove un errore poteva avere delle conseguenze molto gravi potevano chiudere la casa di trice potevano metterti in galera o addirittura in campo di concentramento se magari facevi l'errore di pubblicare un autore ebreo senza saperlo quindi è importante capire che c'era questo rapporto abbastanza collaborativo che il regime guardava con favore questa crescita dell'editoria il suo diventare un settore industrializzato con un mercato di massa e che incoraggiava tutti gli italiani a leggere che era un obiettivo dichiarato da parte del regime e quindi fino al 1937 io non ho trovato nessuna traccia di una misura specificamente mirato alle traduzioni le traduzioni semplicemente rientravano le misure che già esistevano per i libri quindi per me non si può parlare di censura delle traduzioni se non è una censura che specificamente è mirato alle traduzioni questo cambia invece nel 38 quindi ho riassunto molto brevemente quindi fino al 34 nessuna censura preventiva in generale nel 34 fu introdotto una misura di censura preventiva proprio da Mussolini perché lui rimase offeso dalla copertina di un romanzo di Miura che si chiamava Samba 2 Amore Negro e sulla copertina si vede una donna italiana abbracciato da un signore africano vestito abbastanza elegantemente questo uscì nel 34 cioè l'anno prima dell'invisazione dell'Etti e lui andò su tutte le furie e nel giro di qualche giorno impose un sistema però mai ufficializzato di controllo preventivo dei libri e specialmente delle copertine però sempre mirato ai libri non necessariamente alle traduzioni quindi poi nel 37 un primo segnale diciamo di maggior interesse si vede perché il regime manda cioè il Ministero della Cultura e Popolare manda un circolare chiedendo agli editori di inviare i dati sull'ultima traduzione pubblicata solo questo poi però nel 38 innanzitutto nel marzo del 38 loro chiedono agli editori di chiedere il permesso di poter pubblicare le traduzioni prima di pubblicarle che in realtà è una misura che già esisteva per i libri ma a mio avviso era semplicemente un modo per farli capire che si stavano interessando un po' di più e poi naturalmente è l'anno delle introduzioni delle leggi antisemitiche quindi ci fu un'epurazione dei libri di testo delle scuole durante il mese di agosto e settembre poi in settembre fu fondata la commissione per la bonifica libraria non so se avete mai sentito parlare di questo guidato da Dino Alfieri che era il ministro della cultura popolare e ho preso questa citazione della lettera che lui ha scritto a Mussolini il giorno prima del primo incontro di questa commissione e lui dice che l'obiettivo della commissione è una revisione totale della produzione liberale italiana e di quella straniera tradotta in italiano la necessità di tale revisione si è resa tanto più necessaria in relazione alle superiori direttive di carattere razziale per me questo è un punto chiave cioè non sono intervenuti però nel momento in cui si è deciso di togliere dalla circolazione tutti gli autori ebrei allora a quel punto tanto valeva anche andare a vedere come era la situazione con le traduzioni e vedere se era necessario intervenire o me e qui il segnale c'è però in realtà guardando le carte di questa commissione non sembra che siano mai intervenuti contro le traduzioni hanno fatto un elenco diventato noto nel libro di Giorgio Fabri che si chiama L'elenco è bellissimo ve lo consiglio di più di 900 autori che hanno stati messi al bando per lo più ebrei ma non tutti però non non intervenirono contro le traduzioni e invece ci furono delle restrizioni sulla letteratura per l'infanzia i fumetti tradotti è una situazione molto complessa perché ci sono stati moltissimi dichiarazioni lettere circolari inviati ma non è molto facile capire fino a che punto questi circolari hanno avuto effettivamente un impatto o meno poi nel 40 Dino Alfieri si sposta non mi ricordo diventa basciatore credo a Londra se non vado errato e Alessandro Pavolini diventa il nuovo ministro a questo punto quindi l'appurazione antisemitica è conclusa fondamentalmente e lui finalmente decide ok adesso io voglio affrontare la questione delle traduzioni e ci sono una serie di misure che lui introduce nell'arco di due o tre anni innanzitutto lui impone delle restrizioni sui romanzi popolari che nella mente del regime equivalgono alle traduzioni perché sono le traduzioni che alimentano questo mercato e specialmente i gialli e i romanzi venduti a forma di dispensa quindi quelli che costano pochissimo e che quindi sono facilmente acquistabili anche dalle persone diciamo dalle masse salute poi nel gennaio del 42 lui impone una quota sulle traduzioni questa è una cosa che mi ha sempre assillato quando io facevo questa ricerca come è possibile che loro imponevano una quota sul cinema sul teatro ma non sulle traduzioni mi sembrava una cosa illogica avevo trovato anche qualche cenno in un libro che però era molto frustrante perché non diceva qual era la fonte non diceva qual era il documento e non si capiva quindi se era vero o meno poi finalmente ho trovato una carta nell'archivio Mondadori che è una specie di miniera d'oro e dove c'era la conferma che effettivamente prima si parlava di una quota di 10% si era prestato molto penalizzante alla fine si sono accordati sul 25% e da quello che sono riuscito a capire questa volta fu veramente applicata cioè non era solo un un così una una cosa di apparenza e nell'apri del 42 vengono vietati definitivamente i gialli ufficialmente per mancanza di carta perché eravamo in periodi di guerra quindi tutte queste restrizioni contro le traduzioni da notare che nella quota sono incluse anche le traduzioni dal greco e dal latino questa cosa ci dice che il problema non è la lingua di partenza o non è il testo che viene trovato sono quelle statistiche cioè lui vuole ridurre quelle statistiche quella proporzione di traduzione rispetto alla produzione globale vuole che le traduzioni abbiano una presenza meno imponente meno importante nel mercato e quindi anche i testi dal latino e dal greco vengono incluse nel conteggio notare anche che questo è lo stesso periodo però in cui lui autorizza la famosa antologia di Elio Vittorini di letteratura moderna americana una cosa abbastanza sorprendente è interessante notare che questo solitamente viene citato come un esempio di censura fascista perché effettivamente la prima edizione fu bloccata ma in realtà loro tolsero alcuni paratesti possiamo dire testi introduttivi scritti da Vittorini che erano troppo entusiasti e troppo positive sostituiti con dei testi un po' più distaccati diciamo di Emilio Cecchi e con questa piccola manovra o camouflage testuale che naturalmente non inganna nessuno tanto meno Pavolini fu autorizzato quindi per me non è un esempio di censura ma è un esempio sorprendente di flessibilità da parte di Pavolini che nello stesso periodo sta imponendo una quota sulle traduzioni dal latino e dal greco e non mi so spiegare esattamente perché questo succede ma mi sembra molto striking direi in inglese colpisce parecchio va bene quanto mi manca? ok allora salto volevo farvi un discorso sulla ritorica usata per descrivere il problema della traduzione ma vi leggo solo questa citazione che è tratto da un discorso di Pavolini fatto all'inaugurazione annuale dell'associazione Italo-Germanica però non so bene in che anno non è datato e lui dice ma ai margini di quella che è la grande pura corrente di una tradizione italiana via via rinnovantesi in sempre nuove forme si era andata in tempo passato annenzando nei tempi grigi della vita nazionale un'importazione disordinata ed avvelenatrice di dottrine modi intellettuali maniere del pensiero d'arte e di vita interamente strane al genio e allo stile della razza e nostra fatica assidua ma in gran parte ormai già portata a compimento quello di sanare la cultura nostrana da un sifatto inquinamento marginale la bonifica libraria il valio delle traduzioni la selezione delle importazioni dei libri dei periodici stranieri tutti questi ed altri analoghi provvedimenti hanno contribuito al risultato di rendere sempre più italiana la cultura italiana italiana cioè se stessa del tutto immune da un esclusivismo meschino ma ben consapevole del proprio eterno compito di irradiazione più che ricezione la chiave di tutta la storia in sostanza quindi per concludere per me questo è un esempio di cioè è un approccio alla storia della traduzione che io vedo come diciamo un po' minoritario nei translation studies o nel translation history in generale nel senso che non viene seguito da molti e viene anche in qualche modo disapprovati da alcuni perché l'oggetto non è tanto la traduzione in sé quanto il contesto storico il tema storico che uno può scegliere quindi la mia diciamo proposta è che questo è un approccio che si può dovrebbe aggiungersi a quelli che sono già più consolidati che abbiamo visto anche nella presentazione di Franco e che è un approccio che ha molto da offrire e vi lascio con una domanda questa cosa che vi ho appena raccontato secondo voi è di maggior interesse per uno studioso di translation studies o per uno studioso di fascismo grazie tantissimi anche a Chris per questa bellissima relazione che è complementare a quella di Franco quindi abbiamo ancora buoni dieci minuti io darei immediatamente se qualcuno vuole la parola alla sala o anche a chi ci segue a distanza magari può manifestarsi in chat chi vuole intervenire a distanza o chi appunto della sala può alzare immediatamente la mano e dovresti per cortesia Antonio da casa guarda di presto questo allora evito di assordarvi no una cosa innanzitutto grazie entrambi perché sono bellissime relazioni queste cose ne parliamo da tanti anni innanzitutto una cosa una piccola curiosità sulla quota del 25% si trattava di una quota come funzionava una quota annuale per singola casa editrice per singola collana insomma come veniva effettivamente applicata questa quota poi mi chiedevo appunto se è interessante vedere che una una reazione del genere anche all'antologia americana da parte di Pavolini Pavolini è un fedelissimo di Mossorini sarà anche a Salomori a Dongo insomma non è un non è un fascista poco convinto come poteva essere ad esempio il censore teatrale Zurlo insomma che era più interessato al teatro ecco che all'ortodossia per quanto non esistesse davvero molto l'ortodossia fascista ma diciamo per quanto più che all'ideologia e all'ideologia fascista e a me è sempre sembrato molto interessante come per Pavolini la nazionalità degli autori nella pubblicazione dei nei libri pubblicati fosse relativamente poco interessante poco importante mentre assumeva un aspetto cruciale nella sua stessa attività di ministro della cultura popolare per quanto riguardava il teatro invece e quindi la diffusione del teatro con la famosa appunto circolare che vieta le opere spagnole scusate francesi e inglesi tranne appunto i classici e così via un'altra domanda appunto abbastanza veloce per per Franco Nasi mi incuriosiva molto quella citazione di Mattioli in cui si parlava del traduttore in retroguardia perché sappiamo bene che forse l'attività del traduttore è soprattutto quando irregimentata dalle regole delle case editrici è effettivamente di retroguardia più che di avanguardia eppure al contempo nei studi sulla traduzione nella traduttologia c'è una retorica abbastanza prevasiva che in alcuni casi è senza dubbio giustificata del traduttore come innovatore come colui che colui o colei chiaramente che è in grado con il confronto il raffronto con i testi stranieri di innovare dall'interno di pervertire in qualche modo positivamente la lingua la propria lingua madre la propria lingua di d'arrivo chiudo qua grazie ora per rispondere alla domanda sulla quota e la quota era applicata a ogni casa editrice e quindi il numero delle traduzioni cioè la proporzione di traduzione nella loro produzione globale non poteva superare il 25% chi avesse una produzione che fosse già meno di 25% doveva mantenere quel livello esistente e io ho fatto un controllo sui dati della Mondadori e il numero di traduzioni dal 41 al 42 si è dimezzato è arrivato al 28% quindi diciamo più o meno ha rispettato la quota no è il numero di titoli quindi io direi che è stato applicato e c'è da dire che loro hanno negoziato per un anno e mezzo per evitare che fosse del 10% quindi una volta che hanno ottenuto il 25% mi sembra chiaro che a quello punto erano tenuti a rispettare poi è chiaro che un anno dopo il regime è crollato e tutto è cambiato di nuovo però direi che è stato applicato sul fatto di diciamo così l'ambiguità del personaggio Pavolini è molto difficile da decifrare naturalmente quello che sono riuscito a capire ma questo più che altro leggendo le lettere che si sono scambiati Vittorini Bompiani e Pavolini innanzitutto che lui diciamo li considerava in maniera abbastanza amichevole cioè li rispettava come persone come possiamo dire come operatore culturale e editoriali e poi secondo me lui aveva simpatia per i progetti editoriali in generale anche per i progetti letterari che fossero un po' innovativi e questo in sé per lui non era un problema quello che lui disse è che io in questo momento qua non voglio fare favori diplomatici agli americani è interessante notare adesso poi dopo passo la parola a Franco che la storia di americana è molto travagliata perché ci sono varie edizioni bloccato poi riautorizzato poi bloccato di nuovo eccetera e non si sa se poi fu veramente definitivamente bloccato o meno perché coincide più o meno con l'incrodo del fascismo è difficile capirlo ma c'è un telegramma conservato all'archivio di Stato nel fondo del ministero dove è arrivato un telegramma da parte di uno non si sa bene chi che nel momento in cui ci fu un bombardamento a Grosseto e le bombe cadono su una scuola per l'infanzia mi sembra di ricordare comunque c'era un momento molto traumatico nei tanti bombardamenti naturalmente da parte degli aliati e quindi c'era questa situazione nei giorni del Grosseto Bompiani quel finto ebreo di Bompiani pubblica un mattonissimo curato da quell'altro finto ebreo Vittorino con grande aggressività e c'è il matita blu che secondo mio collega sicuramente di Mussolini basta è ora di finirla appunto quindi poi non si sa se effettivamente l'hanno bloccato credo che non mi ricordo che sia la citazione di Mattioli forse il passaggio l'ho fatto l'ho detto io quando era il riferimento alla traduzione che sembrava ungarettiana però il punto è importante cioè quanto i traduttori facciano un'operazione di avanguardia o di retroguardia vengono in mente due cose il saggio bellissimo di Ortega e Gasset in cui in miseria e splendore la traduzione a un certo punto lui dice la letteratura è per sua natura la vera letteratura è quella che rompe l'orizzonte d'attesa che cerca di creare delle nuove visioni e dice e poi c'è la pulizia della grammatica che conserva e guarda tutto e i traduttori sono pusillanimi li definisce così perché tendono sempre a fare un'operazione di retroguardia cioè a mantenersi al di là all'interno di quelli che sono i limiti convenzionali nella lingua nella cultura di ricezione quando invece magari l'autore nel testo originale forzava i limiti della lingua di partenza quindi questa idea del traduttore pusillanime la riprendo da Ortega e Gasset mi sembra bellissima un'altra cosa invece più empirica è stata fatta da Eleonora Galditelli che non so se la conosci dunque la casa editrice non mi ricordo in questo momento che l'ha pubblicato il libro comunque ha fatto uno studio molto interessante partendo da di corpora di fatto sulle traduzioni dall'ottocento inglese da Dickens poi è venuta avanti nel novecento guardando ad esempio in particolare l'uso del congiuntivo quindi quanto viene usato il congiuntivo nei traduttori e poi l'ha confrontato con l'uso del congiuntivo negli scrittori allora la cosa curiosa è che usano molto più il congiuntivo i traduttori in Italia oggi di quanto non lo usino gli scrittori se tu fai uno studio delle correnze del congiuntivo da che so Paolo Nori per dire gli scrittori contemporanei non si usa mai mentre i traduttori lo usano continuamente anche quando traducono da testi in inglese in cui il congiuntivo in teoria non c'è insomma per cui potreste anche tranquillamente fare un'operazione un pochino più ecco quindi direi che molto spesso i traduttori fanno questa operazione per due motivi primo perché a volte semplicemente gli sembra giusto mantenere poi un livello della lingua italiana che sia alto e c'è quasi un dovere questo anche nella letteratura per l'infanzia mi è capitato di lavorare un po' in questi libri di questo tipo di testi c'è l'idea che il traduttore debba essere un insegnante della scuola elementare che corregge i ragazzi quindi mette egli no queste robe qua ancora succede purtroppo che sono cose che non funzionano per nessuno scrittore neanche Manzoni usava più egli cioè però a scuola mettiamo quindi il traduttore poi lo usa così il congiuntivo ecco questa adesso mi sono perso comunque questo questo era il punto che direi essenziale insomma i traduttori ecco l'altra cosa è che i traduttori spesso fanno questa operazione non solo per convincimento loro ma perché gli editor di certe case editrici glielo impongono allora ci sono editor e lì il mondo poi dell'editoria è molto interessante da indagare case editrici che impongono una loro modalità di traduzione a Delphi a delle linee molto precise per esempio altre case editrici poverette che assumono dei ragazzi che vanno a fare lo stage fanno gli editor e capita che questi ragazzi che magari hanno fatto finito la laurea o stanno finendo la laurea magistrale vanno a correggere le traduzioni cioè con anche poca esperienza purtroppo succede anche questo nel mondo dell'editoria visto che sono qui approfitto per rispondere alla domanda che ci ha fatto Chris certamente questa storia l'ultima dei turn post translation studies l'ho ripreso da questo libro di Gensler che è uscito da poco che va in quella direzione lì mi sembra cioè ci sono alcune cose che dice beh è importante vedere ma perché è stato tradotto in quale contesto in quale dimensione cioè ci sposta assolutamente diciamo dall'analisi stilistica che è uno degli elementi con gli esempi che vi ho fatto io dalla riflessione dei traduttori sulla traduzione agli aspetti sociologici che sono fondamentali allora cosa devono fare i translation studies devono fare tutto questo ma i translation studies secondo me per loro natura devono superare questi limiti assurdi dei settori accademici no? SSD come si chiamano insomma che non hanno nessun senso poi è chiaro che nei concorsi poi ti dicono tu sei uno storico no? sei un linguista ma queste sono stupidità ottusità della nostra accademia i translation studies cioè gli studi sulla traduzione sono effettivamente un campo in cui si apre si devono necessariamente aprire queste barriere cioè il lavoro che hai fatto tu è fondamentale cioè di cosa parliamo cioè paradossalmente che altri stadi sono andati proprio per come dire andare al di là delle barriere sì cercano di farlo poi purtroppo ci sono i concorsi ci sono queste cose qua per cui uno viene inquadrato deve fare deve essere un linguista deve essere uno storico della letteratura un critico per cui se fai quello che ha fatto lui è fondamentale nell'ambito dei translation studies certo sono contento che tu pensi così a questo grazie per la conferma ma allora forse la domanda doveva essere non tanto se è interessante o meno perché è chiaro che qualsiasi cosa può essere interessante però diciamo che nella mia esperienza nel parlare di questa ricerca con diverse persone da diverse background disciplinari quelli che hanno lavorato sugli stessi documenti sono stati negli stessi archivi e si sono posti le stesse domande sono gli stoici cioè gli stoici del fascismo perché vanno e lavorano sulle stesse carte allora io mi pongo la domanda ma non dico di avere la risposta pronta e non non pretendo di risolvere una questione così complessa però noto percepisco che in fondo quello che mi leggo e alcune volte mi sento che ho più legami con chi studia la storia del fascismo anche senza tener conto della traduzione che non di tante persone colleghi anche a cui voglio bene che però non sanno molto sul mio argomento e non sono stati in quegli archivi non hanno cioè non c'è l'archivio condiviso per dirla anche in senso più ampio più metafora e questo è un dilemma dalla quale penso spesso ma non so dire esattamente come si può risolvere ma io se posso se posso aggiungere qualcosa no la domanda è sicuramente fondamentale penso che un po' come diceva anche Franco che si vorrebbe superare i limiti in questo senso credo che una delle definizioni per esempio secondo me più suggestive che è stata data di tradutologia in senso positivo è quella di Yves Gambier quando Yves Gambier dice che la tradutologia è fondamentalmente una interdisciplina ma non soltanto in senso tematico no ma soprattutto la traduzione intesa quindi lo studio della traduzione intesa come dispositivo epistemologico che attiva possibilità ermeneutiche diverse cioè è chiaro che i translation studies possono essere una lente di ingrandimento per vedere dei fenomeni specifici al fascismo ma attraverso il fascismo riusciamo sicuramente a individuare dei meccanismi dei processi traduttivi utili alla ricerca traduttologica quindi la traduzione è le due cose insieme la risposta è ambivalente come ambigua e doppia la traduzione come fenomeno quindi sia che ci rivolgiamo come ha fatto Franco Nasi prima ai problemi ai rapporti fra il canone traduttivo di una specifica traduzione rispetto ai canoni estetico letterali di formazione delle letterature nazionali sia che ci rivolgiamo invece a contra ci rivolgiamo la nostra attenzione attraverso la traduzione il prisma della traduzione su problemi storici e contestuali di una certa epoca per cui per me è sempre stato fondamentale sottolineare il fatto che attraverso lo studio dei processi traduttivi la traduzione diventa anche un dispositivo epistemologico che attiva degli interrogativi sulle discipline e sul modo che hanno le discipline nelle scienze umane e sociali di interrogare i vari saperi su cui lavorano ecco io credo che questo possa mi sembra che questo incontro sia stato veramente fruttuosissimo avremmo credo tutti quanti molte altre cose da fare vedo che Andrabinelli alza la mano e dato che non credo che ci siano altri eventi gli do volentieri la parola non perdere tempo vieni qui e fai la domanda intanto a Franco che ringrazio tantissimo e non lo dico assolutamente per contraddire la questione dell'aumento non mi ha sorpreso il fatto che realizzando quantitativamente la presenza dei congiuntivi nelle traduzioni italiane aumentino quei congiuntivi e penso che lo stesso valga anche per i condizionati sono perfettamente d'accordo che in ultimo quello è il precipitato di un atteggiamento legato al registro alla volontà di un atteggiamento di un registro alto aggiungo solo che in minima percentuale a volte questo accade per una necessità di variazio mi rivolgo a chi traduce una variazio che può essere sensicale per cui il congiuntivo e il condizionale ti permettono per l'appunto di evitare delle pesantissime ripetizioni ma anche sintattiche a volte sono risoluzioni tali per cui a volte anche un po' l'appesantimento di una paratassa inglesa ad esempio grazie a una finestra che è l'uso del congiuntivo nella lingua italiana ci permette di è vero poi si risolve in quell'innalzamento del registro di cui tu parlavi però di fatto in alcuni casi non sempre è il prodotto di questa necessità di varianze flessicale e sintattica una cosa rapidissima Chris provo anche a rispondere dopo averte ringraziato tantissimo non solo è legittimo è bellissimo quello che fai e di sicuro interesse per noi che ci occupiamo di traduzione ma ho immaginato e non penso dire niente di sorprendente che l'innesto del tuo lavoro con quegli atteggiamenti tipici ad esempio della teoria del polisistema fanno sì che un'indagine come la tua sono il volano perfetto per poi quelle analisi sull'adequasi che si risolvono in un concretissimo lavoro di analisi contrastiva linguistica di verifica delle norme delle pratiche traduttive quindi di fatto è fondamentale direi che rappresenta fra le tante altre potenzialità che ha anche un momento decisivo legittimante anzi delle cose scientifico necessario per un eventuale indirizzo non obbligato non sto dicendo che fai questa cosa almeno mi serve per ancillarmente a un altro obiettivo però anche questo può tradursi anche in questa fortunata e positiva potenzialità non so se è una cosa che hai già pensato se eventualmente questo è un sì sarebbe un innesto abbastanza interessante rivolgere quello che è il risultato del tuo lavoro in una prospettiva di polisistema per poter poi eventualmente passare anche a una successiva fase di analisi magari in collaborazione con un gruppo di ricerca perché è un lavoro di genere enorme più legato al concetto di adequacy quindi a quell'analisi contrastive verifica delle pratiche traduttive magari con il provolgimento di Gallitelli che ti fa un lavoro di corpo e quindi effettivamente va quantitativamente a vedere sono cose enormi però anche le sapissime allora sicuramente ci ho pensato alla possibile applicazione della policy system theory o eventualmente delle implicazioni che questo lavoro poteva avere per quello devo dire però che io diciamo che alla fine facciamo la cosa che ci stimola di più e ci interessa di più e io trovo non so se è un limite o meno forse lo è che nel momento in cui io comincio ad astrarre o a tirare delle conclusioni più generali comincio a perdere interesse non so forse perché alla fine sono un top di biblioteca o di archivio e finché resto su quei documenti mi diverto nel momento in cui comincio ad arrivare quindi secondo me è bellissimo va benissimo qualcuno dovrebbe farlo ma non penso di riuscirci grazie grazie infinite ma anche io avevo una piccolissima cosa sulla suggestione di Franco che riportava appunto questa sospensione del giudizio di Mattioli che è un dispositivo totalmente fenomenologico è la messa tra parentesi io mi dico ma è veramente possibile oggigiorno procedere a una sospensione del giudizio forse uno non potrebbe far intervire un altro dispositivo della fenomenologia in questo punto francese merlopontiana cioè del chiasma in realtà una sorta di va e vieni tra una dimensione e l'altra senza procedere a questa sospensione del giudizio che diventa probabilmente impossibile sì decisamente quando quando Mattioli parla di sospensione del giudizio si rifà l'epochè usserliana che era la base del suo approccio fenomenologico che gli viene da Banfi insomma tutta la tradizione della fenomenologia italiana io la leggo in questo modo cioè sospensione del giudizio nel senso un po' di Bermann Bermann scrive questo bel saggio sulla critica produttiva anche quando faccio fare delle tesi di studenti che magari fanno le tesi di analisi comparata di traduzioni consiglio di leggere quel libro lì dove Bermann pure utilizza la stessa espressione sottensione del giudizio nel senso non dobbiamo fare come facciamo di solito compriamo un libro col testo a fronte lo apriamo e andiamo subito a vedere se il traduttore ha sbagliato perché c'è sempre questo gusto sadico da parte dei lettori bilingue di trovare l'errore e Bermann dice lasciamo perdere leggiamo il testo nella sua interezza vediamo se funziona se ha una sua tenuta testuale vediamo perché l'ha tradotto per chi l'ha tradotto in quale contesto è stata fatta la traduzione quindi tutti gli elementi diciamo extratestuali poi dopo andiamo a vedere se funziona o no e quanto perché lo trattiamo come testo autonomo quindi questa sospensione di giudizio credo che sia a parte che Macchioli la usa nel senso di non chiediamoci che cos'è la traduzione ma andiamo a vedere com'è la traduzione nella storia com'è stata quindi in questo senso e poi dal punto di vista della critica così io direi proprio questa critica produttiva a me sembra estremamente interessante come atteggiamento che non è così scontato vedo delle volte quando facciamo le discussioni poi di tesi con i colleghi che poi incalzano gli studenti e dicono sì ma allora l'ha tradotto bene o no cioè allora è una traduzione fedele tu dopo che hai parlato mezz'ora vogliamo la definizione fedeltà però continuiamo ad andare lì no non c'è scritto così Google Translate non avrebbe tradotto così ti dice vabbè allora Fosco non ha capito niente no e tutti gli altri quindi in questo senso poi certamente Merleau-Pontia è un altro punto di riferimento importante certo però non ti saprei dire rispetto a Mattioli in questo momento bene se non ci sono altri interventi direi di ringraziare ancora una volta Chris Franco e Antonio e ci diamo appuntamento a Palermo e ci diamo appuntamento a Palermo speriamo tra il mese di marzo nel mese di aprile del prossimo anno covid permettendo è la cosa fondamentale in cui facciamo le dita e ringrazio anche io moltissimo Paolo per l'accoglienza e i nostri ospiti per le loro per i loro interventi ringrazio anche chi ha seguito chiaramente ringraziamo chi è stato qui e chi ci ha seguito anche a distanza grazie a tutti e grazie a tutti Grazie a tutti.